bene ciao a tutti io sono agli ash qualcuno mi ha visto già ieri e faccio parte anche della gare space di corizia sono dei ragazzi che lavora lì e quest'oggi vi presenterò un po la cosa che abbiamo fatto uno dei progetti che che abbiamo fatto che abbiamo anche portato alla maker fair a roma e si chiama earth beat ed è un sismometro iniziamo iniziamo un po dall'inizio perché uno si chiede perché allora il nostro gol era creare un progetto semplice ma comunque interessante capace di prendere un po l'attenzione della gente essere però essere anche un minimo utile magari un minimo minimo interessante l'idea che ci era venuta era un sismografo perché un sismografo perché un sismografo di base è una cosa piuttosto semplice è un meccanismo abbastanza semplice c'è una massa che oscilla c'è un modo di misurare queste oscillazioni tutto qua poi viene complicato e perfezionato però diciamo il concetto di base è questo allora cos'è un sismometro o un sismografo praticamente è uno strumento di misura che misura lo spostamento del terreno in una direzione precisa perché in una direzione precisa perché ci sono più tipi di onde sismiche e ci interessa sapere che tipo di onda sismica stiamo misurando quelli quelli meccanici che sono la generazione vecchia diciamo misurano fisicamente lo spostamento del terreno quelli elettronici misurano invece la velocità di spostamento o l'accelerazione di spostamento detti anche accelerometri che non però non hanno nulla a che fare con gli accelerometri che abbiamo nei nostri device come come tutte le cose sismografi risuonano sono un semplice il modello è uguale a quello di un rlc c'è un oscillazione smorzata bisogna però stare attenti alla frequenza di risonanza la frequenza di risonanza è quella che ti dà poi ti imposta dove le onde verranno più amplificate per quello quando si vede sismografi che hanno bracci lunghi e per avere frequenza di risonanze bassi e quindi risuonare meglio alle onde che arrivano iniziamo con una scarlata di storia il sismografo non è nulla di nuovo è stato inventato da un astronomo cinese zang heng nel ben ben cent'anni prima duemila e cento anni fa quello moderno è stato inventato molto recentemente paragonato a duemila anni fa nel 1892 che sempre meccanico mentre quello elettrico elettromagnetico fu inventato all'inizio del secolo scorso da un principe russo parliamo un po di onde sismiche premetto che non è il mio campo io sono un fisico però posso parlare un pochino di onde sismiche ce ne sono più tipi come potete vedere onde p e onde s l'over e lì le onde p e le s sono quelle più comuni che sono le onde di pressione e le onde di shir parliamone vediamone un po in dettaglio sono onde di volume quindi non viaggiano sulla superficie ma possono viaggiare anche all'interno della terra diciamo le onde p sono oscillazioni in questo in questo senso lungo la propagazione dell'onda se guardiamo per esempio qua qui si vede un po male praticamente l'onda si propaga così questi sono i fronti la compressione e qui c'è un estensione mentre onde s che potete vederle qui sono oscillazioni diciamo perpendicolari alla direzione di propagazione quindi o in verticale o in orizzontale o una qualsiasi combinazione delle due ovviamente le onde le onde di love di reili sono beh possiamo vederle qui sono di ground roll le reili sono quindi praticamente il terreno che fa un movimento così sono entrambe onde di superficie però quindi si propagano solo sulla superficie terrestre diciamo allora un hard disk parliamone può essere un una cosa un po così sciocca da fare però pensandoci un attimo un hard disk e alla fine uno uno strumento molto preciso perché insomma per spostare per spostare le testine cercare cercare tutti i dati ha bisogno di un drive molto molto preciso quindi può essere anche un ottimo sistema di misura ai suoi cuscinetti che sono molto precisi bassissimo attrito senza problemi magneti molto potenti con la bobina dentro per pilotarli controllarli con precisione noi invece la nostra idea era di utilizzarli praticamente in modo inverso cioè sfruttando l'attuatore come sensore quindi misurando la corrente indotta ai capi della bobina invece di fornire corrente facendo i primi test banali con un oscilloscopio abbiamo visto che il segnale che esce è abbastanza abbastanza forte si parla di 50 60 millivolt picco picco e quindi abbiamo deciso di andare avanti quindi abbiamo fissato una massa inerziale al braccio attuatore delle testine misuriamo la corrente indotta ai capi della bobina nell'attimo in cui la massa inerziale si sposta o più precisamente l'intero mondo che si sposta intorno alla massa inerziale che tende ad essere ferma noi misuriamo una corrente perché il braccino si muove il campo magnetico cambia quindi misuriamo una corrente indotta abbiamo fatto uno shield per il primo prototipo che non fa nient'altro che un filtro passabasso di secondo ordine per filtrare le frequenze alte che sono indesiderate nel campo della sismometria diciamo amplifichiamo un po facciamo l'opportuno bias per campionarlo con un arduino ovviamente il campionamento a 10 bit non ha grandissima profondità però per un prototipo funziona abbastanza bene e poi non facciamo nient'altro che spedirci i comandi impacchettati diciamo al computer per poi specchettarli con uno script in python che abbiamo fatto utilizzando matplotlib e numpy questa è stata una esperienza bellina anche perché è stato il primo contatto un po più serio con python della nostra della nostra gente diciamo ed è assurdo quanto pacchetti tipo numpy e matplotlib ti facilitano il lavoro con con dati anche anche belli pesanti cioè fft in real time in diretta senza grossi problemi e questo è l'interfaccina che eravamo noi come potete vedere qui c'è lo spostamento in tempo reale e qui non ce lo spettro su questo però c'è l'accelerazione praticamente derivata con facendo la derivata del segnale allora poi questo questo primo prototipo l'abbiamo presentato alla maker fair li abbiamo vinto anche un premio best maker quindi la cosa ci è piaciuta molto abbiamo deciso di pensarci ancora un po e insistere perché il nostro il nostro primo prototipo aveva un serio problema per impostare il punto di lavoro cioè il punto intorno a quale oscillava poi la testina abbiamo usato degli elastici ovviamente questa cosa qui è impensabile per un per uno strumento di misura e quindi abbiamo deciso di esplorare un po le varie opzioni che avevamo che avevamo le varie opzioni possibili per ovviare a questo problema degli elastici smorzamenti con molle smorzamenti in olio smorzamenti magnetici però tutto questo non ci piaceva tantissimo perché non era proprio una cosa non riciclava abbastanza cose perché questo era un progetto che è stato pensato soprattutto per dimostrare anche alla gente che le cose magari un hard disk che si rompe se lo butti via lo butti via e se no puoi farci un sismografo quindi l'idea grande è stata utilizzare il modulo ottico di un lettore cd e qui immagino una reazione simile a quella di usare un hard disk per sismografo cazzo ok no non così in verità non è così non è così assurdo perché il modulo ottico ovviamente ha bisogno di sapere se il laser è messo a fuoco sul cd diciamo non so se sapete come funziona il principio di lettura praticamente c'è un fascio laser che si riflette o meno dalla superficie di cd ma essendo le tracce molto molto sottili sto parlando di 6 micrometri 8 micrometri spessore di una traccia il punto laser deve essere piuttosto fine altrimenti vado a leggere anche le tracce vicine e quindi c'è un segnale che esce dal dal pic che diciamo il modulo che si occupa di leggere poi dati quello che legge il laser in entrata diciamo che si chiama focus error è praticamente in sostanza proporzionale alla distanza tra la lente e una superficie che riflette quindi la nostra idea è stata è stata di utilizzare questo proprio questo segnale ovviamente la documentazione sul fotodiode integrated circuit è praticamente assente perché è una parte che sviluppata solamente per enterprise diciamo e quindi non ha nessun marking niente l'unica l'unica cosa è stata contare il numero di pin e cercare tutti i data sheet di tutti i fotodiode che si potevano trovare in internet e spulciare innanzitutto per il numero di pin e poi cercare di indovinare insomma tolite tecniche di reverse engineering indovinare l'alimentazione a ground e procedere da lì infatti ne abbiamo bruciati un bel po' quindi come funziona il focus error il focus error che ci sarà l'unica formuletta io sono stato sono stato bravo un focus error praticamente si inserisce una lente nel camino ottico nel ritorno del laser diciamo si inserisce una lente astigmatica questa lente astigmatica distorce il punto che è normalmente circolare del laser diciamo no il laser parte come un cilindro diciamo si riflette va su si stringe arriva dal cd si riflette giù si riallarga e poi c'è questo c'è questa lente astigmatica che lo stringe da una o dall'altra parte spero sì no in realtà non si vede proprio niente ok quindi cosa facciamo noi facciamo quattro detector quattro fotodiodi messi a quadrato a forma di finestra diciamo e poi misuriamo la differenza tra i due tra le due diagonali diciamo e questa differenza sarà proprio il focus error perché quando la lente perfettamente a fuoco il segnale ritorna circolare sui quattro e quindi va incidere simetricamente sui quattro sui quattro fotodiodi mentre se fuori fuoco da una parte o dall'altra si si praticamente si schiaccia da una parte o dall'altra quindi facendo un recap creare un sismometro può essere abbastanza facile abbastanza poco costoso perché alla fine contando il primo prototipo noi l'abbiamo realizzato con circa poco meno di un centinaio di euro perché abbiamo deciso di scegliere degli amplificatori un po più carini ci impara moltissimo perché anche lavorandoci abbiamo imparato veramente tanto partendo da python e finendo per reverse engineering di fotodiodi e quindi può essere una cosa che può benissimo essere proposta anche alle scuole tornando un po indietro vedo che sono stato un pochino troppo veloce posso spiegarvi un po meglio anche come i passi futuri diciamo del secondo prototipo che intendiamo che intendiamo presentare anche alla maker fair di quest'anno a roma praticamente il nostro il nostro goal in questo caso è utilizzare un un pid cioè un controller proporzionale integrativo derivativo per poi pilotare una massa in modo che rimanga sempre sempre ferma diciamo e quindi nell'attimo in cui arriva l'onda la nostra massa inerziale tende a spostare un pochino la la levetta dagli hard disk e quindi noi compensiamo da pilotando attivamente questa volta utilizzando il braccetto come attuatore e non più come sensore pilotandola un po spostandola un po in avanti ovviamente il segnale che noi utilizziamo per pilotarla sarà poi il segnale il segnale sismico che noi andremo a rilevare per questo abbiamo già iniziato a fare un po di prove utilizzando la red pitaia che forse qualcuno conosce mai sentito parlare della red pitaia ma nessuno è peccato è un circuitino bellissimo che ti permette di a 42 ingressi due uscite fa una dc a 125 mega sempre al secondo quindi ti permette di fare sia d'oscillo scoppio sia già generatore di funzioni sia da appunto pid e tante altre applicazioni che si fa è un prodotto commerciale a noi ce l'hanno ce l'hanno prestato bene io finirei anche così se però se avete domande sono sono contento di rispondervi sì sì no praticamente quello che tu vedi è un chip non nero ma praticamente trasparente che è grande circa 5 per 5 mm ok i fotodiodi non riesce a vederli però in verità sono fatti ce ne sono quattro così disposti a finestra e poi due grandi sopra e sotto però sono quattro fotodiodi separati sì anche se poi non li vedi diciamo come come sì fisicamente sono disposti così a 4 1 2 4 quadrati sì e poi due rettangoli grandi che servono per il tracking error che è l'altro errore che serve per per pilotare la lente non perché la lente ha due a due gradi di libertà uno è dentro fuori diciamo per regolare il focus per regolare il focus error e uno è avanti e indietro per regolare il tracking error cioè l'altro scarto diciamo no esatto però si non riesce praticamente non riesce a vederle a occhio nudo ho provato anche a a guardarli sotto l'area è molto piccola si non riesci sotto microscopio forse qualcosa riesci a vedere forse qualcosa riesci da avere però non abbiamo accesso facile a microscopi un pochino quelli un po più pesanti un po più buoni però sì no poi nel nel dic diciamo non c'è solo fotodiodo ma c'è anche un array di amplificatori buff di buffer di buffer che bafferizzano il segnale inizialmente così non non disfi tutto altre domande non ho portato niente purtroppo perché il secondo prototipo è ancora un po fragilino meglio meglio non toccarlo perché sono si disfa tutto no per adesso non esiste ancora nessuna nessuna interazione fissa perché appunto volevamo completare il secondo prototipo perché il primo non ha neanche senso campionare dati perché non è non è tarato uno secondo nell'attimo in cui anche se lottari nell'attimo in cui cambia un attimo la temperatura un attimo l'umidità gli elastici non rispondono in maniera in maniera uguale quindi si si stara in sostanza quindi è solo per adesso è solo diciamo puoi vedere poi puoi vedere la forma d'onda però non significa niente diciamo non ha un significato fisico questo è però una cosa che stiamo cercando di rettificare con la versione 2 diciamo col prototipo 2 stiamo parlando con l'ingv che è l'ente nazionale di geofisica e vulcanologia che hanno un centro di ricerca a udine e hanno detto che se vogliamo possiamo prestarci un attimo la il tavolo vibrante per poi anche pensare di di tararlo e quindi di usarlo poi in una pensavamo di integrarlo in una stazione meteo in verità che sia sempre attiva che è una cosa molto interessante ed è una cosa che può essere replicata adesso posso farvi vedere anche allora questa qua la nostra wiki questo qua si parla del primo prototipo che ci sono un minimo di immagini come potete vedere allora vediamo se si vede qualcosa ben poco ok se andate sul nostro wiki che wiki.hasgo.org con l'h all'inizio potete vedere tra i progetti rb 2 e rb 1 con tanto di immagini e tanto di filmato se volete per concludere in bellezza potete vedere il mio bel faccione che vi racconta un po di cose vediamo se si questo per esempio fa vedere eccolo qua questo è il modulo ottico questa è la superficie riflettente e questi sono questi sono i nostri il nostro circuitino di acquisizione del segnale questo alla parte di questa è una parte di hard disk tagliata e questo è l'attuatore diciamo della testina e poi praticamente questo qua che vedete qua è il circuito che poi pilota la testina e la muove effettivamente questa invece la red pitaia che ci funziona come pid e quindi nell'attimo in cui tappi un pochino vedi subito una variazione bene finisco 25 secondi prima se avete altre domande sì 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 ne ho sentito parlare come allora tracciare purtroppo tracciare terremoti praticamente un trucchetto che puoi fare è contare la differenza dei tempi di dei tempi di arrivo delle onde p dell'onda s però lì appunto hai un ragione deve averne come minimo due o tre idealmente 33 sismografi per vedere poi impointare il punto si è possibile è possibile però è molto più cioè alla fine ha molto più senso appoggiarsi a una rete tipo la rete di sismo sismometri amatoriali italiana che gli n si dice già e quindi loro loro fanno anche acquisizione dati appunto con sismografi seri diciamo quelli comprati diciamo passiamo parlando anche con loro per un'eventuale collaborazione poi in futuro vedremo dopo dopo la dopo la maker fair altre domande bene grazie dell'attenzione grazie 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 grazie